Sì, è sempre una grandissima emozione tornare a Firenze dopo 9 anni che ho disputato in quella società lì, saranno due grandi partite, saranno due partite fondamentali per noi, sia per i nostri obiettivi stagionali che per il nostro futuro in campionato. Sì, 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 sto parlando con quasi tutti i ragazzi dicendogli delle piccole caratteristiche che hanno gli avversari, sono tutti i 22 ragazzi molto forti, però noi ci andiamo a giocare come facciamo sempre, siamo una grandissima squadra, non a caso siamo arrivati alle semifinali. Sì, saranno due partite nella semifinale, saranno due partite andate e ritorno, noi siamo un pochino più avvantaggiati degli altri perché giochiamo la prima fuori casa e poi magari potremmo adottare una tattica diversa del ritorno, però penso che la nostra squadra è una grandissima squadra, se la giocherà per vincere sia l'andata che il ritorno.